L'obiettivo degli Stati Uniti è la riconquista di Sirte in tempi brevi. Barack Obama detta i tempi dell'operazione militare statunitense in Libia, quattro giorni dall'inizio dell'offensiva aerea sulla città, in mano ai miliziani dell'ISIL. I combattenti jihadisti restano asserraiati in alcuni quartieri del centro di Sirte da quando, il primo agosto, le forze aeree di Washington hanno effettuato nove raid su richiesta del governo sostenuto dall'ONU, di Fayez al Sarraj. Un governo profondamente diviso. Tobruk, con il generale Khalifa Haftar, considera illegittimi bombardamenti statunitensi. In mezzo, lo Stato Islamico ed Al-Qaeda, per non contare le varie divisioni etniche con oltre un centinaio di tribù. Il luogo più importante, ancora in mano allo Stato Islamico, è Ouagadougou, vicino Sirte, che è considerato un enorme deposito di armi con sotterrani, in cui sono nascosti carri armati e autobombe. La Casa Bianca punta a una vittoria in tempi brevi, ma la frammentazione della Libia, molti esperti parlano di sommarizzazione alimentata dalla lotta per l'accaparramento delle risorse petrolifere, non si risolverà nell'immediato.